ciao da windis e spluffete praticamente siamo in portogallo e andremo ad affrontare la prima manche come come ben vedete un circuito molto tortuoso è abbastanza difficile abbiamo le ultime curve prima del traguardo che sono veramente insidiose sfido chiunque a farle bene io ancora tra l'altro non ho imparato benissimo e cercherò di dare il meglio che posso ora andiamo a prepararci per la gara buon divertimento a tutti ciao ciao mi raccomando iscrivetevi al nostro canale ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Il giro gioco era a tuo vantaggio Dovrai effettuarlo una sola volta Se lo manchi riceverai una penalità di tempo Controllo radio Ok Pronti a partire Il tuo avversario ha anticipato La partenza e sarà costretto a completare due giochere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti